Salute a te! Ciao! Ciao! Chi è? Mi piace il coppia? Splendida giornata qui a Roccaraso oggi domenica 27 gennaio 2013 neve bellissima sole pure peccato che c'è certa gente che se no la giornata è una trompella buona cosa io qui si no la la ginocchia siamoapi Grazie a tutti